E' stato chiesto se vi dimettete, la domanda mia, vi dimettete oppure no? Ma ragione, sei meraviglioso! No! Stacca! Se vuoi te la dico bene, parliamo dopo l'assemblea dei soci, sarà un nostro dovere riferire le decisioni prese nel corso dell'organo assembleare. Allora, sull'immagine invece che viene fuori di Gesene dopo questo tsunami, questo terremoto, per Perugia è una società importante. Per Perugia è una società importante, il nostro obiettivo è la salvaguardia del patrimonio aziendale nel rispetto della trasparenza e quindi anche nel rispetto del lavoro che la prefettura sta svolgendo. Che cosa si possono aspettare i perugini dall'evoluzione della vicenda? Grazie, basta. Sono stato anche... Ciao! Grazie!